Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora. Annalisa, Annalisa 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 La scuola è una gran cosa, soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere, né toccare. E la cultura mi sorride, tra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela con il rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora ho una lisa. Monnalisa, Lisa Monnalisa 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 Mona Lisa 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 Grazie a tutti